Ciao, io sono Ettore Di Pace. Ciao, io sono Daniele Terribili. E siamo qui anche quest'anno a fare la cosa giusta per una giornata all'insegnamento della legalità. Venite a trovarci, anche se la giornata è bella, e vi aspettiamo domani in piazza alle 10, in piazza Beccaria, per la giornata in ricordo delle vittime di macchina. Un saluto, ciao! Ciao!